Io ho valutato la necessità, l'opportunità di dimissioni da parte del segretario Siri. Ho letto una sua dichiarazione che è pervenuta poco fa, in cui lui preannuncia che si dimetterà entro 15 giorni dal momento in cui incontrerà e verrà ascoltato dai magistrati. Però io credo che la vicenda giudiziaria e il procedimento giudiziario avrà un soccorso. La vicenda politica, no o non si danno, dimissioni future che vengono ricollegate a iniziative e collegate specificamente ad attività giurisdizionali, ad attività dei giudici, non credo abbiano molto senso.